Ciao ragazze, allora oggi un nuovissimo giveaway per voi, un giveaway su youtube finalmente, me ne rendo conto, ultimamente li faccio sempre su instagram o su facebook ma oggi appunto ho un nuovo giveaway per voi e oggi vi regalerò queste due palette della Too Faced, una è la Chocolate Bar che è la... no, una questa è la Chocolate Bar e poi c'è la Semi Sweet Chocolate Bar che come sapete è uscita in Italia il 17 di agosto, la Semi Sweet io la adoro, non vedevo l'ora che uscisse anche in Italia voi me lo chiedevate in tantissime, quindi una fortunata vincitrice, un fortunato vincitore si aggiudicherà queste due splendide palette questa è la Chocolate Bar che ha sia colori neutri che alcuni un pochino più così pazzi vogliamo definirli perché hanno... alcuni sono appunto sul viola, hanno questi glitterini altri sono opachi, insomma c'è veramente l'imbarazzo della scelta in questa palette e stessa cosa anche nell'altra secondo me la Chocolate Bar sta un po' meglio con gli occhi scuri mentre la Semi Sweet sta un po' meglio con gli occhi chiari, almeno secondo me e questa è la Semi Sweet, anche questa ha sia colori un pochino più pazzi, a me questo blu azzurro piace un sacco e poi insomma ci sono altre tonalità di marrone sull'arancio appunto che fanno risultare un po' più gli occhi chiari quindi cosa bisogna fare per accaparrarsi entrambe queste bellissime palette Too Faced? in realtà è semplicissimo, vi basta iscrivervi al mio canale YouTube, qua sopra da qualche parte c'è il tasto iscriviti, lo sapete tutti ormai e poi vi basta iscrivervi alla pagina YouTube di Too Faced, vi metterò il link alla pagina di Too Faced qua sotto nel box informazioni e poi naturalmente dovete commentare questo video, insomma scrivetemi perché vi piacciono così tanto queste due palette perché vorreste riceverle o che trucco vorreste realizzare con queste palette, insomma sbizzarritevi avete una settimana di tempo per partecipare al giveaway, non so esattamente quando caricherò questo video ma da quel giorno sarà una settimana quindi vi scriverò tutto nel box informazioni e attenzione attenzione, altra cosa importantissima il nome della vincitrice o del vincitore, poi una volta chiuso il giveaway datemi un paio di giorni per controllare i commenti insomma non sarà immediato, però una volta chiuso il giveaway appunto dopo qualche giorno troverete sempre in questo box informazioni di questo video il nome della vincitrice o vincitore appunto, quindi tenete d'occhio la descrizione, cliccate click more o vedi di più, non so come sia in italiano e insomma controllate da lì, quindi ragazzi e ragazzi vi mando un bacione, vi auguro buona fortuna per questo splendido giveaway spero che vi piaccia, bacio, ciao! iscriviti al canale